Oggi Rubinetti a secco in città sarà servito solo il carcere e garantito il servizio autobotti per gli enti che ne avranno necessità. Una interruzione idrica per lavori non ben specificati a Sabucina dalla quale si sa poco niente, comunicati e segui e aggiornamenti in corso. Una situazione che si protrae da giorni come le proteste dei cittadini soprattutto per il periodo estivo e di gran caldo che impone un uso maggiore di acqua. Numerose le rimostranze sui social anche di titolari di attività commerciali che si sono trovati colti di sorpresa dall'interruzione idrica che non è una novità ormai con le condotte di distribuzione con l'abbrodo gestita da Sicilia Acqua. Stessa sorte in parte anche per gli altri paesi della provincia che sono riforniti da Madonia Est.